Musica Questa coppia davvero originale, una coppia in gioco La coppia in gioco arriva da dove? Da dove sta la Chiarella? Dalla Chiarella, pensate, al Carnevale Burgudo dalla Chiarella E invitiamo anche sul barco la coppia adulta, i Dolci Sposi Ecco qua i Dolci Sposi Sono due coppie adulte comunque Adesso andiamo a vedere chi è la coppia vincitrice Allora qualcuno dice che non c'è storia, non per mancare di pienevolenza ai nostri Dolci Sposi Però dal Burgundo il verdetto finale per le coppie Direi che all'unanimità, senza nessuna perplessità Abbiamo il piacere di ringraziarvi per la partecipazione E i primi classificati sono la coppia in gioco che arriva direttamente da Monte Carlo Allora complimenti, preghiamo all'assessore Invernizi di consegnare la pergamena E il buono vacanza, il vacanza più della Hyper Club ai nostri amici che arrivano dalla Chiarella Facciamo anche poi una foto assieme alla nostra maschera Ecco qua, come vedete ho una coppia davvero originale Chi è che l'ha congegnata, chi l'ha pensata? La signora E si vede lo stile, non per mancare di... Va bene, le signore di solito hanno molto buon gusto in queste cose Grazie per la vostra presenza Adesso invece andiamo con i due gruppi adulti più numerosi O perlomeno che hanno partecipato al nostro gioco Invitiamo il gruppo numero uno Il gruppo delle Hawaii Il gruppo hawaiane Manca il sottofondo Manca il sottofondo però comunque lo immaginiamo Questo è il gruppo adulto delle Hawaii E poi la seconda Il secondo gruppo è La storia siamo noi La storia siamo noi Dov'è? Eccola qua La storia siamo noi È un viaggio a ritroso nella storia Con dei personaggi Che a quanto pare hanno fatto la storia Intravediamo dei personaggi Poi chiederemo loro Perché non vorrei... Allora vediamo un attimo di sapere Cosa rappresentate E dove volete arrivare Stiamo cercando di farla Della strada più dritta possibile Va bene, insomma È una storia un po' sbiletta Da dove arrivate amici? Pavia e Milano Pavia e Milano Un gruppo misto Un gruppo misto che ha partecipato al nostro gioco E che ci occupa della presenza Oggi ovviamente Alle amiche delle Hawaii E adesso Andiamo a chiedere Al Burgundo Qual è il risponso finale C'è un consulto Un consulto tutto particolare Vi ricordiamo ancora Che chi volesse Può assaggiare La prelibata cioccolata calda Preparata dai nostri cuochi Dai cuochi della Proloco E offerta da Pernigotti Di Novi Ligure Vi ricordiamo anche Che parte di pomeriggio Le ore 14.30 Teatro sociale Di animazione La Proloco Dell'Oratorio E dell'Eniclub Offrono un pomeriggio In maschera Per i più piccoli 14.30 Teatro sociale Ecco allora Il verdetto Da parte del Burgundo Apprezzando molto Entrambi i gruppi E ringraziando Per questa Numerosa partecipazione La commissione Con grande difficoltà Ha deciso di premiare Anziché la storia La geografia E quindi A questo punto Direi che siete Secondi classificati Che è sempre Una bella O un bel piazzamento Grazie a tutti E buon carnevale Ecco allora L'assessore L'assessore Alla cultura Inverresti Che premia Il gruppo vincente Io Si sente La storia Se volete Una bottiglia Da offrire Ben volentieri No Non da offrire Voi a noi Noi a voi L'accettate? Bene Arriviamo subito Bene Crediamo di aver Completato in bellezza Anche questo Bel pomeriggio Carnevalesco Dedicato Al carnevale Borgondo Edizione numero 27 Vi ringraziamo Di voi Vi invitiamo A digustare La cioccolata Preparata dai cuoti Della Prologo E offerta Dalla Fernigotti Di Nove Ligure A voi tutti L'appuntamento Al prossimo anno Ma prima ancora L'appuntamento È per i più piccoli E per parte di pomeriggio Ore 14.30 Teatro sociale Grazie Arrivederci